e non è proprio... devi prendere un casino di qua e la luma tiene eh! è la caghetta che non tiene è appoggiata, ce la tengo io devi stare di qua e poi girarla e dobbiamo uscire di qua è questo che gli vengono in mente di quelle cose prova! non lascerà sulla stagionata sopra su quelle cazzo di gambe lì figano, c'è dal punto più alto e la gira fuori non c'è discesa a me non mi piace il calo, è un po' molto non c'è Sì